segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te sei mesi di guida al partito democratico che bilancio si può fare con la segreteria di ellis line quella che ha fatto il dottor bernabè una fotografia perfetta di quello che è stato il pd fino adesso e non solo il pd anche gli altri partiti diciamo in europa di sinistra di centrosinistra come li vogliamo chiamare ragionando in prospettiva perché l'ash line è stata eletta appunto sei mesi fa come passa il tempo quando ci si diverte sei mesi fa lei è stata eletta per per cambiarlo l'elettorato cioè perché in teoria se uno avesse sempre quell'elettorato si farebbe neanche le campagne elettorali come dire tu sei destinata ad avere sempre quelli del resto abbiamo fin qui parlato di di leader che sono arrivati ad avere 40 per cento che voglia aggiungere un pezzo di elettorato non perdere un pezzo per prendere un altro faccia politica è sempre quello quindi devi tornare ad essere credibile devi tornare ad essere un partito di sinistra quindi credibile anche presso la classe operaia non solo presso le zdl come si banalmente comunque identificato i diritti civili non bastano sono ovviamente sono 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 la base sono necessari poi vorrei dire anche che sono un tema che andrebbe condiviso anche al di là della sinistra che poi diritti civili come cosa le sinistra mi sembra una follia pure questa e diciamo lo diamo come quando si diceva onestà onestà no onestà onestà io dopo scontato che tutti siano onesti in teoria al parlamento ma era un periodo in cui probabilmente era necessario dire anche delle banalità che però erano programmi efficaci c'è delle banalità era erano necessari ecco chiamiamole così l'ashline le sue battaglie comunque ha fatto l'estate militante insomma lei dei discorsi sul lavoro sulla sanità adesso sul salario minimo e li ha fatti non mi sembra che facciano molto agenda fa più agenda agenda da dibattito anche da talk se vogliamo fa più agenda non so un provvedimento sul fascismo tirata per la giacchetta da quello che dicono dall'altra parte insomma le uscite spesso così paradossali per usare un eufemismo che fanno d'altra parte quindi tu sei obbligato a dire che c'è il fascismo in italia o qualcosa di simile non ti occupi più di ampliare il tuo consenso come stiamo dicendo adesso io ho una lettura un po diversa nel senso che l'elettorato di cui avete parlato voi due è un elettorato non è che deve cambiare